Anticipazioni Tempesta d'amore. Martedì, 10 novembre 2020. Franzi e Stefan, si trovano di fronte ad un grosso problema. I zombiecler, vogliono vendere il birrificio, ma il nuovo acquirente non vuole produrre sidro. Come fare? I due, decidono di non perdersi d'animo. Immediatamente, iniziano a cercare un nuovo locale. Ma i loro tentativi si rivelano fallimentari. Franzi, deve rinunciare al suo sogno, già prima di cominciare? Vanessa, vorrebbe restare più a lungo a B-Climb. E si mette in cerca di un lavoro. Così fa l'Eva su Werner, per farsi assumere, come istruttrice di fitness, al Furstenhof. Paul, la mette alla prova, e si convince delle sue grandi capacità. Così raggiunge Werner, e cerca di mettere una buona parola per la ragazza. Poi, però, è costretto a pentirsene. Perché? Cosa accade? Buona parola per la ragazza. Buona parola per la ragazza.